E' un po' terra di nessuno, come altre zone all'aperto di Fano lasciate un po' a se stesse e che diventano inevitabilmente una discarica. Stiamo parlando in questo caso della superficie dell'ex tiro a segno in fondo a Viale Ruggeri, confinante con la pista dei go-kart. Nonostante comunque ci sia un minimo di recensione o una sbarra che impedisce l'accesso ai veicoli, a punti comunque di accesso, sparsi qua e là e facilmente individuabili. Questa zona stamattina è stata oggetto da parte degli agenti della sezione ambientale della polizia locale di un'attenta ispezione che purtroppo ha fatto rinvenire diverso materiale smaltito abusivamente. Tra i tanti materiali lasciati lì e scoperti dagli agenti, grazie al loro intuito investigativo affinato in centinaia e centinaia di interventi come bombole esauste di gas GPL, sacchi di rifiuti indifferenziati, elettrodomestici tra cui una lavatrice ed anche un condizionatore portatile ed altro materiale vario di risulta. La cosa che ha lasciato veramente sgomenti sono oltre una cinquantina di pneumatici d'auto accatastati, usurati e sapientemente occultati alla vista dalla folta vegetazione spontanea che ormai ha inghiottito anche i fabbricati. Recentemente proprio lì nella pista dei co-cart c'è stato un circus automobilistico di stuntmen che facevano acrobazie varie con diverse auto, sgommate, derapate e gincane varie. Gli agenti della municipale assieme all'ufficio ambiente del comune di Fano sono riusciti grazie all'attento esame del materiale rinvenuto nel sito ed un'attenta indagine svolta a risalire ai responsabili del gesto e del materiale raccolto. In giornata stessa quindi gli autori dello sversamento sono stati obbligati alla rimozione del materiale e a smaltirlo correttamente nonché sotto l'occhio attento degli agenti a ripristinare lo stato d'origine del terreno.